Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In primo piano c'è la cronaca, termina con la decisione del GUP sulla propria incompetenza territoriale. L'udienza preliminare è presso il Tribunale di Pescara per Miriam Loddo e Silvio Berlusconi, coinvolti nello stralcio del processo denominato Rubiter, accolta la richiesta del Pubblico Ministero e della difesa dell'ex Premier. Il servizio di Alfredo Primante. Vi dico che vi è stata una trasmissione di atti per incompetenza territoriale alla Procura della Repubblica di Milano a fronte di elementi documentali recentemente acquisiti da parte della Procura di Pescara. Gli atti del processo tornano a Milano. Si chiude così la parentesi pescarese del processo Rubiter, quello che riguarda le feste piccanti nella casa di Arcore di Silvio Berlusconi all'epoca dei fatti presidente del Consiglio dei Ministri. Nell'aula 8 del Tribunale di Pescara, il GUP Antonella Di Carlo, si è detta incompetente territorialmente a stabilire il rivio a giudizio per i due imputati. Silvio Berlusconi appunto è Miriam Loddo, l'ex meteorina originaria di altri accusata di falsa testimonianza nell'ambito del processo che vede imputato il Cavaliere assieme ad altre 30 persone con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Il caso di Miriam Loddo è approdato davanti al GUP del Tribunale di Pescara dopo che quello del Tribunale di Milano, Laura Marchiondelli, aveva deciso per lo spacchettamento del procedimento penale. La posizione della maggior parte degli imputati è rimasta a Milano, mentre altre sono state trasferite a Torino, Pescara, Treviso, Roma, Siena e Monza. La vicenda riguarda la presunta corruzione di testimoni del processo Rubi, finalizzata ad ottenere false testimonianze in favore di Berlusconi. Quanto alla posizione di Miriam Loddo, la giovane abruzzese ha sostenuto che la sera in cui Rubi venne rilasciata dalla questura di Milano e, affidata alla consigliera regionale Nicole Minetti dopo la telefonata di Berlusconi, anche lei era presente. Il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, ha contestato la circostanza, accusandola di falsa testimonianza. Soddisfatto il legale difensore di Berlusconi, l'avvocato Federico Cecconi, che aveva sostenuto, così come il pubblico ministero, l'incompetenza territoriale dei giudici pescaresi. Noi ritenevamo che non vi fosse la competenza di Pescara. Le opzioni che noi avevamo individuato erano la procura di Roma come luogo attesa all'incertezza del cosiddetto movimento consumativo, ma l'opzione individuata dal tribunale di Pescara era un'altra delle opzioni ragionevolmente ipotizzabili. Maltrattamenti su minori extracomunitari ospitati presso una struttura dell'Aquilano dedicata ad accogliere giovani migranti provenienti dal continente africano ancora minorenni. Con questa accusa oggi i poliziotti della squadra mobile dell'Aquila e di quella di Roma hanno arrestato due persone ai domiciliari. Le misure cautelari sono state richieste dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano Guido Cocco e confermate dal giudice per le indagini preliminari Maria Proia. Le indagini della questura sono partite in seguito a una denuncia raccolta nella capitale. Alcuni minori extracomunitari hanno raccontato di essere fuggiti dalla casa famiglia perché sottoposti a reiterate violenze fisiche e morali. Le testimonianze hanno poi consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di due dipendenti della struttura, madre e figlio rispettivamente di 52 e 27 anni che hanno trattato i minori con insulti, minacce e atti di violenza. Cambiamo ora argomento. Il consigliere regionale del PD con delega ai trasporti Camillo D'Alessandro ha illustrato le nuove strategie che la regione metterà in campo nell'ambito della fase 2 del trasporto pubblico locale. Paolo Renzetti. Un rilancio del trasporto su gomma sia per persone che per le merci anche con l'introduzione di un biglietto unico autobus treno ma anche l'acquisto a breve di nuovi 100 autobus da mettere in strada per rinnovare il vetusto Parco Mezzi abruzzese. Questi punti cardine della fase 2 del trasporto pubblico locale messo in cantiere dalla giunta regionale. Nell'ultimo consiglio regionale c'è stato uno spartiacque che ci consente oggi di mettere finalmente mano al passato. Lo spartiacque è l'introduzione delle regole per finalmente pagare secondo la legge tutto ciò che era oggetto di contenzioso che poteva diventare contenzioso nel trasporto pubblico locale. Mi riferisco agli operatori del trasporto pubblico locale perché abbiamo introdotto le modalità di calcolo. Oggi quindi ci sarà per il futuro una spesa certa con risorse certe che ci consentono di aprire la fase 2 della programmazione che si compone di più fatti. Da un lato il trasporto pubblico locale fatto sia su gomma sia su ferro, dall'altro il trasporto merci su ferro che oggi è eroga tua. Terza grande questione, gli affidamenti del trasporto pubblico locale essendo il regime di concessioni in scadenza verso le gare o verso l'affidamento diretto. Tutto questo apre una straordinaria possibilità. Oggi c'è una programmazione parcellizzata del trasporto pubblico locale. Noi vogliamo ricondurre ad una programmazione unitaria regionale tutto il trasporto pubblico locale e quindi introdurre il biglietto unico. Che significa che un cittadino, qualunque mezzo pubblico prenda su gomma o su ferro, può raggiungere qualunque destinazione con un unico titolo di viaggio. Per farlo è necessaria una programmazione unitaria regionale e per farlo è necessario che la regione organizzi un nuovo meccanismo di trasporto pubblico locale. Parliamo del secondo servizio più importante dei cittadini abruzzesi dopo chiaramente la sanità e dopo la sanità c'è la voce di bilancio più importante che è quella del trasporto pubblico locale. Noi investiamo milioni di risorse di competenza regionale e di competenza statale e oggi è necessaria la svolta che passa anche attraverso da settembre l'acquisto dei nuovi autobus. Iniziamo a acquistare quasi 100 autobus spero all'anno per poter cambiare completamente il parco mezzi abbastanza vetusto ma che noi abbiamo ereditato. Regione Abruzzo e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno sottoscritto una convenzione con la quale viene disciplinata l'attività di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio della regione Abruzzo. Il documento è stato siglato questa mattina all'Aquila dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, dal prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi alla presenza del capodipartimento dei Vigili del Fuoco Bruno Frattasi, del direttore regionale Giorgio Alocci e dei comandanti provinciali dell'Aquila Pescara, Teramo e Chieti. La convenzione scaturisce dall'accordo quadro nazionale tra il governo e le regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Durante il periodo di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi individuato dalla regione tra il 1 luglio e il 15 settembre 2017, la regione attiva presso la sede della protezione civile all'Aquila la sala operativa unificata permanente alla quale è demandato il coordinamento degli interventi di antincendio boschivo. E ora cambiamo pagina, l'Università dell'Aquila ha presentato uno studio di fattibilità per il recupero dell'area dell'ex ospedale del capoluogo. I fondi ci sono, bisogna iniziare a dare forma all'idea di un polo universitario in centro, spiega la rettrice. Daniela Rosone. Mentre si recuperano le vecchie strutture, è ora che l'Ateneo dell'Aquila, dopo 8 anni dal terremoto, pensi a nuovi investimenti e al rafforzamento di un'area strategica, quella cioè dell'ex ospedale San Salvatore, creando un polo universitario, anche in base al programma di riqualificazione urbana invariante al piano regolatore generale, approvato dal Comune dell'Aquila nel 2003. Per questo è stato presentato uno studio di fattibilità, che vede nell'ingegner Pierluigi de Berardinis il responsabile scientifico, con un gruppo di lavoro formato tra sei persone, tra ingegneri ed architetti. L'idea è quella di unire al vecchio nuovi spazi funzionali, recuperando Piazza San Basilio e le antiche mura. Biblioteche d'archivio, invece, avranno nuovi spazi, sia poegee che in elevazione. Al posto dell'edificio dell'Arta, invece, secondo lo studio, dovrebbero sorgere un auditorium e una sala conferenze. Lo studio è partito dalle vecchie strutture ed attuali, con i relativi ampliamenti. Lo studio di fattibilità, in pratica, si pone come risposta significativa per un'ulteriore qualificazione del sistema universitario, con la creazione di un importante polo culturale e servizio, però, dell'intera collettività cittadina. Una risposta connotata, peraltro, da un importante significato simbolico, se si considera, infatti, l'obbligazione del complesso edilizio ex San Salvatore a ridosso del centro storico della città distrutta. L'intervento di riqualificazione proposto si mostra, dunque, come un volano in grado di innescare auspicate processualità virtuose. Nel complesso, il polo universitario dovrebbe prevedere un'area per didattica ed uffici, biblioteca provinciale d'archivio di Stato, biblioteca universitaria, lo studentato, l'auditorio, mensa e bar, con la rivalutazione di piazza San Basilio, come dicevamo. Alla conferenza stampa di presentazione dello studio era presente anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dal momento che il comune è parte interessata in questo piano strategico. L'università, come è noto, ha acquisito da tempo ormai l'area dell'ex San Salvatore, in parte dalla ASL. Il Cipe aveva finanziato per 8 milioni di euro e l'università così ha potuto acquisire. Dal 2013 si è pensato a ristrutturare l'area. Da ospedale di zona disagiata, ospedale con pronto soccorso, è una delle principali richieste del comitato Salviamo l'ospedale di Penne, che prosegue la battaglia per il San Massimo dopo le proteste di alcuni giorni fa a Pescara, il successivo incontro con il governatore D'Alfonso, il servizio della redazione di Vestina News. Antonio Marrone continua la protesta per salvare l'ospedale di Penne, oggi si scende qui in piazza per una serata informativa per i cittadini dell'area Vestina. Esatto, questa sera abbiamo l'incontro con tutta la cittadinanza per fare il punto della situazione, su quello che è stato fatto e su quello che si farà. Noi rivolgiamo l'ospedale come era prima, se non ci daranno risposte concrete andremo avanti e già abbiamo grandi progetti, grandi idee, grandi strategie, già abbiamo pensato a come far crescere questo movimento, abbiamo intenzione di mettere un referente per ogni paese limitrofo, questo referente ci consentirà di sensibilizzare la popolazione dei rispettivi paesi, questi paesi che cresceranno li aggiungeremo al nostro comitato. Noi chiediamo che da ospedale di zona disagiata, come è stato declassato l'ospedale di Penne, ci passino a ospedale sede di pronto soccorso, che vuol dire avere un ospedale serio e non siamo disposti su questo argomento a farci prendere in giro. Tieni conto che c'è un'utenza di 62 mila persone, non solo, teniamo conto che Penne, che è stata anche sede di Asri in passato, raccoglie anche le utenze di parte dei centri del Terramano, quindi devono capire che non è possibile che gestiscano meglio quel pizzico di potere che hanno, che è quel potere che gli abbiamo dato noi e che andrebbe usato per lavorare bene sul territorio. Dopo due giornate di sciopero i sindacati hanno ottenuto un risultato, la convocazione di un tavolo in regione per il prossimo 20 luglio per discutere del futuro della Oniwell di Atessa. Un tavolo in regione con la Oniwell il 20 luglio prossimo, obiettivo raggiunto per i sindacati con due giorni di sciopero nella fabbrica dei turbocompressori. 420 operai tornano al lavoro nello stabilimento che la multinazionale americana possiede in Val di Sangro, ritenuto uno dei migliori al mondo per qualità e know-how. Le due giornate di astensione del lavoro erano state proclamate da FIM, FIOM e WILM per costringere la corporate ad aprire un confronto sul futuro dell'impianto produttivo. Il timore paventato dal RSU e da Davide Labbrozzi, Nicola Manzi e Dorato Di Camillo è quello di uno scippo del lavoro. I sindacati hanno denunciato il backup degli 83 codici produttivi per trasferirli in Slovacchia, una vera e propria clonazione dello stabilimento Sangrino sul posto dal 1992 per poi portarlo alla chiusura. L'azienda fino ad oggi non ha confermato né smentito, annunciando tuttavia 35 esuberi. Il tavolo, convocato in regione Abruzzo dal vicepresidente Giovanni Lolli, servirà a chiarire i lati oscuri di questa avvertenza, che spaventa anche le comunità sangrine. I sindaci di Paglieta, Tessa, Fossacese e anche di Lanciano hanno scritto alla multinazionale per richiedere un incontro urgente sulla vertenza in atto. A Montorio, al Vomano, sorgerà un centro dedicato agli ipovedenti che prevede 25 posti. Si tratta di un progetto finanziato dalla regione Abruzzo, unico in provincia di Taramo, a favore di strutture per persone affette da disabilità. Il servizio di Tania Bonici Castelli. A Montorio, in località Colle Vecchio, sorgerà un centro di urno per assistenza a persone ipovedenti che prevede inizialmente circa 25 posti. Questo grazie al progetto presentato dal Comune e finanziato, unico in provincia di Teramo, dal Bando regionale per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza di strutture per l'accoglienza e l'assistenza di persone affette da disabilità. Questa struttura intanto fa il paio con quella che abbiamo aperta a suo tempo a Villa Brozzi e creeremo un indotto tra le due delle sinergie. Verrà gestita dall'Unione Italiana Ciechi e anche noi abbiamo intenzione di avere una ricaduta da un punto di vista territoriale, quindi con il coinvolgimento delle associazioni, in particolare delle associazioni di Colle Vecchio che potranno avere degli spazi idoni di aggregazione. Il primo obiettivo infatti dell'amministrazione comunale di Montorio è stato mettere in campo una serie di azioni a sostegno delle famiglie con programmi di intervento mirati e un'equip di lavoro professionale in grado di rispondere a tutte le esigenze degli ospiti della struttura. Le attività saranno mirate soprattutto ad aumentare il grado di autosufficienza personale degli utenti, nonché quello relazionale e di inserimento sociale. Noi siamo contentissimi perché comunque realizzare una struttura a Colle Vecchio una struttura per disabili sicuramente abbiamo ottenuto un grosso obiettivo perché dare risposte alla disabilità a chi è stato meno fortunato di noi è sicuramente una grande ricchezza per una comunità. Abbiamo puntato tantissimo su questo progetto e la realizzazione contiamo di averlo entro primavera a 120 giorni la progettazione noi come comune comparteciperemo per una somma di 40.000 euro ci sarà l'Unione Italiana Ziechi insieme a noi ci sarà la comunità montana abbiamo anche coinvolto la ASL perché come struttura sarà poi una struttura accreditata dalla ASL e quindi avrà fondi certi ogni anno dalla ASL Giacinto Verna di Progetto Lanciano è stato nominato Vice Sindaco di Lanciano il Sindaco Pupillo ha temporaneamente revocato la carica di Vice Appino Valente per motivi di salute finché lo stesso Valente non potrà assicurare con continuità l'attività amministrativa. Dal 10 luglio Giacinto Verna ha assunto l'incarico di Vice Sindaco di Lanciano in carico temporaneo tiene a precisare l'assessore all'istruzione e politiche della casa in attesa del rientro di Pino Valente il leader di Progetto Lanciano è in clinica per un periodo di riabilitazione dopo un grave problema di salute che lo ha colpito ai primi di giugno scorso ho accettato perché me lo ha chiesto Pino spiega Verna che nel frattempo ha iniziato a seguire anche il settore lavori pubblici con la direzione dello stesso Valente che detta l'agenda dal letto della convalescenza. Tengo a precisare anche quest'altro aspetto è chiaro che io da solo noi da soli non andremo e parlo di Progetto Lanciano non saremmo andati da nessuna parte senza la caparbietà, la capacità e la lungimiranza di Pino Valente e anche in questi giorni anche con questo nuovo incarico che mi è stato conferito io comunque faccio riferimento ai consigli di Pino Valente il quale in questo momento da Villa Serena nella clinica nella quale sta facendo la riabilitazione comunque chiede, si informa e mi detta anche i ritmi e le tempistiche di alcuni atti che bisogna portare anche in sede di giunta. Resta l'incognita finanze la delega, come per i lavori pubblici è ancora affidata a Valente anche se di fatto ne dispone il sindaco Mario Pupillo verosimilmente sarà affidata per alcuni mesi ad un assessore già presente in giunta rumor si ipotizza non delegato in quota PD Nel caso in cui il progetto Lanciano voglia mantenerla le finanze potrebbero essere affidate o ad un nuovo assessore scelto tra i consiglieri comunali che però dovrebbe dimettersi dall'assemblea oppure ad un esterno della stessa lista civica E' iniziata due giorni fa con grandi numeri la settimana Mozartiana a Chieti settimana Mozartiana che chiuderà i battenti domenica prossima a 16 luglio giunta la 18esima edizione la rassegna si conferma punto di riferimento tra gli eventi artistici in tutta la regione Abruzzo la soddisfazione del sindaco Di Primio Sindaco Di Primio ha preso il via con un grande successo di partecipazione con già diversi pienoni la settimana Mozartiana una grande soddisfazione una grande soddisfazione per la 18esima edizione della settimana Mozartiana che è patrimonio dell'intero Abruzzo vogliamo che così sia e soprattutto è un evento che riesce a mettere insieme la straordinarietà e il fascino della musica antica della musica classica con espressioni nuove contaminazioni musicali che iniziano per davvero a diventare sui palcoscenici che noi mettiamo a disposizione a Chieti delle sperimentazioni che poi vengono anche esportate anche quest'anno metteremo insieme l'opera lirica con la musica rock e andremo però sempre a chiudere tutto con l'armonia del jazz che inizierà anche quest'anno in tutte le piazze a far sentire le proprie note e la propria musica nonostante le ristrettezze economiche di tutti gli enti anche quest'anno siete riusciti a mettere in calendario una manifestazione che è un po' il fiore all'occhiello di Chieti sicuramente abbiamo fatto in modo che la scarsezza di risorse economiche che ormai viviamo da qualche anno non incidesse sulla qualità e questo è stato il primo obiettivo che abbiamo consegnato al direttore artistico Fabio Dorazio ma abbiamo anche avuto il buon sostegno di alcune aziende dalla Valtertosto ad altre aziende cittadine che ci consentono di coprire quella parte di spesa che da soli non avremmo potuto onorare quindi insieme pubblico e privato oggi raggiunge un risultato importante sulla città che è quello di continuare a fare cultura di fare cultura di qualità e soprattutto di fare una cultura che sia fruibile da una generalità di persone che è l'obiettivo più importante che noi vogliamo raggiungere 40 anni con Radio Delta 1 l'emittente radiofonica abruzzese leader negli ascolti della nostra regione ha presentato il Radio Delta 1 Birthday Party in programma domani sera a Piazza Salotto a Pescara vediamo Enzo Galante 40 anni di Radio Delta 1 in Abruzzo emittente leader nella radiofonia della nostra regione 40 anni nel segno del rinnovamento è una storia è cominciata veramente nel 77 logicamente per sopravvivere 40 anni devi essere un po' camaleontico quindi cercare di trovare quelle che nel momento sono le occasioni per cambiare e trovare delle situazioni nuove diciamo che questo cammino fatto da alti e bassi fortunatamente molto più alti ci ha portato a raggiungere un successo dei 40 anni che sembrano pochi ma non lo sono come si fa a resistere sul mercato sul mercato così difficile per così tanti anni ed essere sempre leader sul mercato non è facile ci vuole impegno perseveranza insistere 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 c'è poco da fare il mercato oggigiorno specialmente negli ultimi anni è stato particolarmente difficoltoso quindi però diciamo che ce l'abbiamo fatta Radio Delta 1 non è solo musica perché è anche informazione informazione in chiave regionale e nazionale ogni ora e poi tanti eventi che avete messo in campo sempre più per coinvolgere i radioascoltatori Sì Radio Delta 1 parte del territorio per raggiungere il territorio quindi siamo vicini alle persone quindi questa cosa di essere una radio locale che si muove Abruzzo, Molise una parte della Puglia una parte delle Marche ci hanno permesso di fare un'informazione un intrattenimento legato sempre al territorio e poi la musica che è la nostra arma principale diciamo Poi ci sarà questo evento di Pescara Esatto e per concludere un po' questa cosa qui della festa dei nostri 40 anni c'è questo evento su Pescara domani sera concluderemo con questo concerto in piazza con ripercorrendo 40 anni di musica della radio quindi con questa cover band che partirà dagli anni 77 appunto e fino a arrivare ai giorni nostri con gli speaker della radio i DJ della radio e poi Giuliano Palma per chiudere con un po' di allegria un po' di divertimento particolare Ed ora apriamo la pagina dello sport parliamo di Pescara e conosciamo meglio un volto nuovo per la squadra di Zeman parliamo del centrocampista Andrea Palazzi arrivato in prestito dall'Inter lo scorso anno era alla Provercelli ha parlato della preparazione ha parlato anche della sua duttilità a centrocampo ma conta di essere impiegato per lo più nel ruolo di Mezzala quest'anno ascoltiamolo Sì le prime impressioni sono buonissime il gruppo è eccezionale ci sono alcuni ragazzi giovani che hanno appena preso ragazzi comunque che sono tornati dai presti i più anziani che ci danno un sacco di consigli sia dentro il campo per come comportarsi fuori e mi sto trovando bene gli allenamenti sono duri e lo sapevamo e stiamo faticando tanto però sono sicuro che poi più avanti ci ritroveremo tutto e speriamo che serva comunque a far bene sì ho iniziato da piccolo giocavo attaccante come un po' tutti poi pian piano mi hanno tirato indietro e sono finito a fare il centrocampista mediano l'anno scorso ho fatto sia il play che la mezzala ho fatto metà partita e play metà mezzala e mi trovo bene in tutti e due ruoli ho un po' tutte e due le fasi fase di possesso di non possesso però penso che quest'anno comunque quando il mister deciderà di farmi giocare comunque giocherò mezzala penso è stata una scelta naturale perché comunque l'anno scorso ho giocato vengo da due anni praticamente fuori il primo anno ho giocato poco a Livorno è stato un anno difficile anche per la squadra la società che si è retrocessi ho giocato poco è stato un anno negativo però mi ha insegnato tanto l'anno scorso me lo sono ritrovato ho fatto bene ho giocato praticamente tutte le partite titolari a parte qualche infortunio squalifica e quest'anno volevo alzare un po' l'asticella volevo andare in una piazza importante una piazza come Pescara una tifosiria come Pescara che reputo da Serie A e ho fatto questa scelta naturale poi quando la squadra che allena Zeman ti chiama a 21 anni in pochi secondo me rifiutano perché comunque può essere uno slancio per la carriera molto importante parla molto poco quindi è stata una buona impressione comunque un'icona del calcio della Serie A del calcio italiano in generale comunque sì lo vedo da tanti anni mi hanno parlato molto bene del suo lavoro con i giovani e non ho esitato a dire subito sì a questa società sempre in Serie B volgiamo lo sguardo ad altre squadre della cadetteria nuovo corso in casa Perugia dopo l'esperienza da giocatore Federico Giunti torna nel capologo Umbro come allenatore per sostituire Cristian Bucchi il nuovo tecnico ha parlato anche di mercato Perugia è quello è la società è l'ambiente che mi ha permesso di crescere sono stato preso tra i dilettanti che ero ragazzino sono cresciuto sono diventato uomo e questa esperienza di sei anni mi ha permesso poi di fare ulteriori undici anni di Serie A quindi io devo essere solo grato all'ambiente ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto quindi spero di ripagarli veramente con altrettanti risultati come furono quegli anni lì in questa stagione è un mercato strano quindi bisogna avere assolutamente pazienza perché non possiamo sbagliare i giocatori soprattutto quelli che riteniamo importanti e che vanno messi nei punti cardine chiaramente il reparto forse in questo momento più carente è chiaramente il centrocampo lo avete visto da voi perché abbiamo perso per rientro dai vari prestiti alcuni giocatori e dovremo intervenire con maggior forza probabilmente in quel reparto E ora la Lega Pro nelle prossime ore Ibrahima Diallo potrebbe diventare un nuovo giocatore del Teramo intanto in casa Biancorossa si comincia a pensare alle alternative per l'attacco e non solo Jacopo Forcella nelle prossime ore Ibrahima Diallo dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Teramo l'esterno della primavera del Pescara formerà insieme all'ex Aquila Manfredo Pietrantonio la coppia di esterni mancini a disposizione di Antonino Asta a destra c'è Ventola e con Altobelli pronto ad essere adattato da quella parte e non solo da centrale l'arrivo di Milillo completa il pacchetto arretrato di difesa le vere spine sono in attacco visto che nella zona mediana del campo le conferme di Amadio e Ilari così come quella qualche metro indietro di Caidi e Speranza rendono il compito decisamente meno in salita visto che la base c'è già chiaro che adesso per Alimi diventa una sfida ulteriore col Vicenza per cercare di strappare la mezzala ai Veneti l'accordo con l'Atalanta c'è già da qualche giorno ma il diavolo adesso teme che possano ripetersi i casi candido chi nel lato è Bob ovvero lo scippo quando il più sembrava fatto se per Mazzocchi non ci dovrebbero essere problemi per l'ex Forlì la concorrenza Vicentina inizia a preoccupare ed è per questo che si iniziano a valutare le alternative nei vari ruoli davanti invece ci sarà il lavoro più grande da fare Asta aspetta i rinforzi a partire dalla boa centrale d'attacco non sarà semplice ma qualche nome che per il momento rimane top secret c'è e come il direttore sportivo Giorgio Repetto già oggi potrebbe contattare qualche profilo sperando di trovare subito la quadratura del cerchio e mettere a disposizione del proprio allenatore quelle pedine che serviranno anche per i primi allenamenti sul fronte uscita invece ancora una fase di stallo questo perché i mancati arrivi stanno bloccando la possibilità di addi di giocatori sotto contratto in alcuni casi infatti non è esclusa che ci potrebbe essere qualche permanenza che fino a qualche giorno fa sembrava assolutamente improbabile il problema del budget è serio e con la disponibilità economica attuale il diavolo ha delle evidenti difficoltà a fare mercato prova di sia che finora tutti gli arrivi sono sotto legida del Pescara adesso il Teramo però avrà la necessità di fare da sé sperando di trovare gli incastri giusti e iniziare a contentare le richieste non certo eccessive di Asta che attende e da dopo domani comincia ufficialmente la sua nuova avventura in bianco rosso ed ora il ciclismo la GM Ovini del patron Gabriele Marchesani si presenta al settantesimo trofeo Matteotti di ciclismo che si correrà domenica prossima con ambizioni dopo l'undicesimo posto dello scorso anno Poche ore dalla trofeo Matteotti ovviamente non si parla d'altro nella nostra regione di questa classica pescarese che compie quest'anno 70 anni tra le squadre Alvia ci sarà anche in questa edizione la GM Ovini di Gabriele Marchesani Marchesani squadra abruzzese nella corsa abruzzese per antonomasia del ciclismo ovviamente puntate a qualche traguardo prestigioso se non alla vittoria in questa settantesima edizione Hai detto benissimo diciamo che questa sarà la nostra terza apparizione al Matteotti da quando esiste la nostra squadra l'anno scorso abbiamo fatto bene siamo arrivati undicesimi con Antonio Di Sante quest'anno sicuramente vorremmo migliorarci magari prendere un bel podio anche perché onorare questo trofeo che è una delle gare più longevi nel panorama professionistico italiano poi l'unica gara che rappresenta a livello professionistico il centro sud Italia puntiamo molto a fare bene e poi abbiamo degli ottimi corridori che stanno in un buon periodo di forma come Davide Pacchiardo Antonino Parrinello e Marco Tizza e speriamo che uno dei tre atleti ci possa regalare qualche bella soddisfazione proprio la settimana scorsa abbiamo terminato il tour di Sibiu in Romania abbiamo conquistato un terzo posto nella classifica generale a squadra un quinto posto con Marco Tizza nella classifica generale anche con i ragazzi con i giovani con i fratelli Canepa siamo andati molto bene quindi ecco ci sono delle situazioni molto soddisfacenti sino all'inizio di stagione dopo il Matteotti faremo un periodo di 7-8 giorni a Livigno e dopodiché faremo siamo stati invitati al tour del Portogallo che dopo i tre grandi giri è uno dei giri più importanti e poi faremo le classiche italiane a partire da ci sarà il Giro delle Miglia ci sarà la Bernocchi il Beghelli la Tre Valli Varesine ci sarà il Pantani quindi avremo ancora un ricco panorama di gare e speriamo ecco di fare bene anche nel finale di stagione bene è tutto per questa seconda edizione del TG6 prossima edizione alle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata Grazie a tutti